Perciò, da sottoscritta Maria Cristina Finucci, Presidente del Garbage Patch State, fondato l'11 aprile del 2013, l'Unipartia Generale dell'UNESCO, con i pieni poteri conferitemi dalla Costituzione del Garbage Patch State, sirvo e ratifico la risoluzione numero 70-1, Agenda 2030, sullo sviluppo sostenibile adottati dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 25 settembre del 2014. Grazie a tutti.